2015 in piazza d'Imperia, cosa ci aspettiamo da questo capodanno? Allora, ci aspettiamo musica, divertimento per tutti, non solo per chi conosce le tre ragazze di X-Factor che verranno a Imperia, perché chi segue X-Factor sicuramente lo conosce anche perché la Michelin è prima in classifica con Fedez, e tra l'altro Fedez non ci sarà, ma ci sarò io al suo posto, infatti oggi vado a tatuarmi già un po' il corpo perché lo rimpiazzerò molto volentieri. Scherzi a parte, speriamo di divertirci, un invito per tutti gli amici d'Imperia, dai più giovani ai genitori, ai nonni, intanto ci sono già le prove sul palco, speriamo di divertirci, io ci metto la faccia, ci metto il sorriso, ci metto la voglia di divertirmi e di divertire, più persone ci sono, più sarà un grande evento, credo per tutta la Liguria, perché guardandoci un po' in giro tutti i comuni si sforzano a dare qualcosa di spettacolo per l'ultimo dell'anno e anche Imperia è arrivato finalmente, dopo tanto silenzio, il cartello, l'ufficialità del capodanno.